Vorrei chiedere al vento di portarti da me Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te Quando passo a trovarti se passa di lì Tu mi chiedi il paesaggio com'è Ti risponderò niente di che Perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui Sole splendente e temperature in aumento Buona fortuna a chi ama e a chi sogna L'estate è arrivata Ma allora Felice inizia quando arriva Lino Polimeni Con il suo raggio di sole alla scoperta del paradiso Calabria Tutti i giorni in diretta alle ore 14.30 su Calabria TV Canale 15 Buona visione, ti aspettiamo, non mancare Il vento che viene dal mare Mi dice che è già primavera E in un attimo scompare Quella nostalgia leggera che mi prende Perché un lago di pronto se vuole con ella un océano E il latido del mondo ti envuelve por donde va Come un suono, un silenzio, destate le foglie, delle alberi Tutto tiene musica, si sta Solo con lei Non importa pioggia o vento Prenderemo quello che verrà Quando stiamo insieme sento Che sono a casa mia in ogni città Sino un destino, senza un plan e senza complicazioni Vediamo per il mondo come per la strada e una canzone Un dia dura apenas un momento, un momento Quando stiamo insieme sento Quando stiamo con ella se mi olvida il tempo Perché anche per terra si accende una stella Nel occhi suoi E tutta un'altra musica con lei Solo si sta Non importa pioggia o vento Lo che tenga che venire venda Quando stiamo insieme sento Che sto in casa in ogni città Senza preaviso e un città Senza destinazione Andremo per il mondo come va Per la strada e una canzone Una canzone Per la strada e una canzone Baila, baila Non importa pioggia o vento Prenderemo quello che verrà Quando stiamo insieme sento Che sto in casa in ogni città Senza preaviso e anticipo Senza destinazione Diremo per il mondo come va Per la strada e una canzone 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 Eccomi qua, buon pomeriggio Eccomi qua in diretta Con la Calabria, l'Italia, l'estero Coloro che ci seguono come sempre Ogni giorno più carichi che mai Non è finita Non è finita Perché ancora Andeventare settembre Siamo al 22 di agosto Ed è precisamente giovedì 14.36 Questa sera l'epica Saranno intorno Mezzanotte e 6 E qualche minuto Questa sera invece In Piemonte Alle ore 21.06 Buonasera Dalino Polimeni A tutti gli amici piemontesi Non solo Quelli che sono del sud Italia Ma anche coloro che sono nati Proprio in Piemonte E grazie anche a chi ci segue Attraverso lo streaming Grazie di cuore perché Questa notte siamo rientrati Alle 3 Alca miseria Alle 3 Meno male che a un certo punto Quando abbiamo finito di registrare Che erano circa Mezzanotte Abbiamo trovato un po' Una persona che ci ha detto Vi facciamo mangiare qualcosa Venite Adesso poi ricordo il locale Lo diremo che si trova in via Roma A Castro A Castrofile Che è la trattoria a Roma Ci ha detto Venite ragazzi Eravamo noi Io e il tecnico Lì Sconsolati A soli a mangiare Però devo dire Grande professionalità E accoglienza come sempre Bene Allora intanto Buon pomeriggio amici Siamo stati al festival Del folcore internazionale E vedete La locandina Dal 16 al 23 agosto 2019 Non perdetevi la serata finale 8 gruppi 34esima estate Internazionale del folcore E del parco del Pollino Che è precisamente Ci sono i gruppi Più importanti Nel mondo E poi rappresentanti Noi li conosciamo Sappiamo benissimo Perché negli anni Abbiamo fatto cose Importanti Abbiamo dato una grande mano Alla città di Castrofile Del festival E a tutto quello Che si può organizzare In futuro E ne abbiamo parlato Con Antonio Notaro Per darvi una chicca Amici Voi che siete lì Sitorizzati Avete già pranzato Avanzato Non so Un'insalata Una pastachina E cose del genere Che vi siete E lì E io in giro Io ancora Ragazzi Oggi neanche la pizzella Un panino Niente Veramente Però tutto sommato Va bene così Sono contento Perché tanti amici Che ci seguono Ma anche la Sicilia C'è la provincia Di Messina Che ci segue In diretta In presa diretta Ciao amici Di Messina Ma poi le isole Olie Lipari Vulcano Un grande seguito In quella zona Grazie amici Alla Sicilia Alle isole E coloro che ci seguono Anche attraverso lo streaming Nel mondo www.carabiatv.it E allora Vi diamo un assaggio Di quello che ho combinato Io ieri sera E poi Torniamo in diretta Vai con la cartolina Castrovillari Nazca Picnici Torniamo in AD Picnici Ok Ricci Adega Sono Ricci 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 Grazie a tutti. 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 in Italia e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e... e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. applausi. e a tutti. e a tutti. e a tutti. con degli inni. eventi. e tutti. e tutti. particolari. e... 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 Perù, perù, perù. e... 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 è il suo nome vero? e... 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 fac... e... 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 ... e... faceva... e... ... e... ... e... ... e... 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 balla, Altorio! bravi! bravi! è incredibile! ti volevo far ballare ma non ci sono riuscito il ballerino quello che si adatta a tutto sei tu in questi anni hai ballato di tutto sei riuscito a fare qualsiasi cosa purtroppo io no al limite mi arrangio più a suonare intanto ringraziamo vogliamo un attimo chiamare chi è dietro le quinte, chi organizza insieme a te l'ufficio stampa, i presentatori tutti quelli che lavorano per questa manifestazione Anna Rita Cardamone Anna Rita Cardamone un applauso ad Anna Rita Cardamone ciao Anna Rita benvenuto piaciuto vederti ballare ti volevo invitare io ma poi hai fatto da solo era un modo anche per trascinare e per coinvolgere il pubblico da casa il pubblico è sempre presente il pubblico del festival è sempre travolgente, si fa travolgere con questi ritmi e poi abbiamo come sta Ilde? benissimo, ti vedo ancora di più grazie diciamo chi è Ilde perché ha una grande storia Tilde 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 da Clotilde ah è vero Tilde scusami Tilde è estate internazionale del folclore perché io sono in divisa sì perché praticamente non è mai staccato durante l'anno rimane sempre io sono fedele fedele al festival del folclore da 24 anni e quindi sono in divisa questa sera diciamo che Tilde fa un grande lavoro fa un grande lavoro in questi giorni sta lavorando tantissimo ogni mattina per preparare la coreografia che poi sarà fatta all'apertura dell'ultima serata dove si esibiranno tutti i gruppi ho visto dietro le quinte il marito vieni vieni Renato ciao grazie Renato perché è importante il lavoro che fate una bella occasione un'emozione no questo festival certamente è un'emozione per vedere tutta questa gente partecipare in tutte queste serate che abbiamo già fatto e che continueremo a fare e sicuramente ce ne sarà tantissimo ma come tutti gli anni gli interpreti tutti quelli poi c'è Cinzia De Sang Cinzia dove è Cinzia? la voce del festival dove è Cinzia? eccola qua ma vedo i colori del castrovillari castrovillari calcio rosso nera rosso nera complimenti ciao oggi vero vero i colori del castrovillari però io volevo dare sono i colori mi pare anche del del cosenza rosso blu no no siamo rosso neri rosso nero ecco allora volevo dare qualche notizia qualche dato qualche numero allora 34 edizioni senza interruzioni 7000 artisti 300 gruppi attenzione i numeri ripetiamo scusate i numeri vai così ce li giochiamo 34 allora 34 edizioni 7000 artisti 300 gruppi 7 giorni da vivere tra musica fantasia colori sapori suoni insomma una finestra aperta sul mondo su castrovillari a proposito di mondo voglio dire un'altra cosa molto importante perché l'anno prossimo nel 2020 ci sarà una una bellissima sorpresa per il nostro direttore il premio che ha detto il sindaco il premio che ha detto il sindaco non ho sentito prima comunque è l'oscar mondiale del folklore un grande onore per lui che porta avanti le tradizioni da oltre 40 anni per castrovillari per il folklore per il suo gruppo città di castrovillari ringraziamo Antonio Notaro con un grande applauso grazie di cuore Antonio perché chi ci segue da casa sa il lavoro che fai questi bambini venite tutti qua davanti vai vieni lasciate i panini tutti quanti i bambini del nostro gruppo del mini folclore ecco a proposito il gruppo folclore questi sono i bambini i piccoli del gruppo città di castrovillari il nostro vivaio il nostro futuro diciamo che qui diciamo da padre il figlio come si dice no? la terza generazione terza generazione e poi sono attivissimi a loro piace tantissimo e lo fanno con tanta passione con tanto amore apprendono subito Gabriele Martina tutti quanti bravi e non vedono loro ogni settimana di fare le prove bene allora facciamo una cosa vi lasciamo grazie un applauso anche a questi bambini perché scusa non può mancare uno due tre castrovillari città festival castrovillari città festival con un applauso ancora con il palcoscenico che dobbiamo un attimo inaugurare anche questa sera sì a tra poco perché inizierà lo spettacolo quello ufficiale con l'esibizione questa sera del gruppo del Perù e della Cecenia applauso Natulium cibo e natura o meglio bio per tutti William cosa ci proponi? sì esatto l'assortimento più vasto al prezzo accessibile partiamo dai latti e le gallette i latti vegetali abbiamo i yogurt le alternative per vegani e vegetariani la frutta fresca con scarichi giornalieri sole esclusivamente biologica tutta tracciabile italiana abbiamo anche i semi la frutta secca per poi passare la riparticolazione con biscotti fiocchi riso succhi e marmellate veramente ce n'è per tutti i grani antichi la pasta e le farine e da poco abbiamo introdotto anche il pane fatto con farine calabrese immaginato a pietra e cotto a forno a legna abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi tutto esclusivamente certificato biologico e adesso dove mi porti? ora Lino ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza marco natura si calabia un'altra con www.crisot.com il comandante e l'equipaggio vi danno il benvenuto a bordo di questa splendida e famosa località balneare della costa tierrenica amantea importante centro di arte e cultura dove trascorrere una vacanza all'insegna della scoperta e del divertimento bella e verace è nota per le sue specialità gastronomiche e per le numerose bellezze storiche come la chiesa di san bernardino da siena e l'imponente castello di età bizantino normanna con un suggestivo centro storico tutto da esplorare una vera e propria perla della calabria circondata dall'incantevole scogliera di coreca il divertimento è assicurato ce n'è per tutti i gusti e tutte le età dallo shopping per le vie della città alle notti bianche dagli spettacoli pirotecnici alle serate a base di musica fino all'alba condizioni ambientali mare blu fondali affascinanti e spiagge incantevoli lasciati avvolgere dalla bellezza del martirreno tempo stimato di permanenza a tutta l'estate e non solo www.comuneamantea.gov.it in collaborazione con hotel village la principessa e sei veramente in vacanza azienda agricola michele ruggiero coltiviamo una passione il sombrero ristorante pizzeria in ogni piatto un mondo di sapori da scoprire bar caruso caruso qualità gusto e tradizione dal 1933 tirrenian park hotel la magia del sì la bellezza dei parchi il trionfo del gusto la carezza della spa in una sola parola il tuo arcobaleno di emozioni antonio pagliaro la moda 2019 con prezzi online ottica ciccia il benessere per i tuoi occhi dal 1954 ottica ciccia una storia fatta di passione vi aspettiamo il 95 per cento degli incendi sono causati dall'uomo e oltre la metà sono di natura dolosa i danni che provocano sono molteplici dissesto idrogeologico deturpazione ambientale e paesaggistica le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e di tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi imprudenza disattenzione ed ignoranza stanno distruggendo il patrimonio forestale un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia l'incendio non è uno spettacolo non bruciare il tuo futuro difendi il paradiso calabria per segnalare gli incendi boschini chiama calabria verde al numero gratuito 800 496 496 oppure 115 vigili del fuoco 112 emergenza nazionale la 34esima estate internazionale del folklore del parco del pollino per quanto riguarda questa sera andremo a visionare da qui a poco due gruppi favolosi la Cecenia ed il Perù il tutto intervallato dalle due scuole di ballo che saranno questa sera la ASD Saradanza di Castrovillari e Centroarte e Movimento di Frascineto facciamoglielo un applauso dai svegliamoci insieme cominciamo a riscaldarci così allora iniziamo subito con la prima scuola Saradanza la Saradanza è diretta da Sara Mola già campionessa italiana 2016-2017 e vice campionessa del mondo nel 2017 la coreografia che vedrete è stata curata dai maestri Mario Palermo, Sara Mola e Marzia Trapani sulle musiche di, vediamo se sono pronti, del Re Leone signore e signori, la scuola di danza sarà danza! grazie! 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 Spirit, Spirit Can you hear it calling? Yeah Your destiny is coming close Stand up and fight And go into a far-off land And be one with the great I Am Wee In the jungle, the mighty jungle The lion sleeps tonight In the jungle, the quiet jungle The lion sleeps tonight Near the village, the peaceful village The lion sleeps tonight Near the village, the quiet village The lion sleeps tonight Wee 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. per questa festa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. tra me e... da 50 anni. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. punto. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 e...